Buongiorno, buongiorno cazzo, ma perché? Perché devi andare a pancù? Oh, zan zan, ecco ci siamo svegliati qua stamattina. Sto facendo vedere al nonno il mio yacht, eccolo laggiù parcheggiato, ecco qui, è il mio yacht personale, venduta stratosferica, oggi è una giornata spettacolare il mio yacht parcheggiato laggiù, non so se mi spiego, gli disse il paracadute, quindi al top. Meglio di così, ma poi vabbè, oggi fa quello, ma che cammina? Ma che scherzo è quei cammini, sono tutti ingranaggi, ma che steddi è finto? Sì sì, è finticato, un foro buono. Buona domenica a tutti, ma soprattutto il Brindisi Filiberto com'è? È per un uomo divino. Eccolo. San Crispino, San Rufino, San Giovese. Salute a tutti. Buona festa della mamma. Incredibile, sullo sfondo abbiamo Ibiza, ma sta nevicando, guardate come le neviche riaprono tutti gli impianti, Maroni Campiglio, Corvaro, Ortisei, Curmalier, Ciamoni, incredibile sta nevicando. Sì, è cambiato gli scherzo, ma era sempre. All'Ushuaia. Delle volte cambia il tono della musica, ma è sempre quella. Sempre bubum bubum. Vedete, 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 vedete questi ragazzi con un bicchierzo alle mani. Ma che cazzo, se tu metti le mani sull'orecchio così, che non senta la musica, anche te che si muovono quell'angolo, perché fai un pazzo. Ma che hai detto, sembrano degli... Ma non è che ballano con una donna, oppure da soli, solo uno è entrato. C'aveva a bicchierci le mani, è entrato, quando è stato vicino a noi, ha cominciato a fare... Sì, è arrivato pure quel ragazzo con l'ortaggio. Con l'ortaggio, il ragazzo con l'ortaggio. E' innamorato del prete. Ebbè. E' arrivato uno che stesse la donna. Questa sera dove andiamo? Eh? Beh! Al? Voi non sapete mai niente. Eh, io non so niente, boh, io... Al tattel, al tattel, al tattel, c'è uno spettacolo per voi. Io sto con l'ortaggio e c'è più fra... Nonna, ma com'è? E' un sogno. E' un sogno? Ti sei anche truccata stasera? Mamma mia, che bellezza. Come sto zitto? Fa quello no, le scalette? Va a vedere come sta io. Se fa le scalette, buonasera. Andiamo a vedere? No, a vedere, ma non a vedere se fa le scalette. Mi fa la culo a andare a vedere. Fa le scalette o no? Come si fa bene le scalette. Va a vedere come sta io. Che voleva fare? Volevi lasciare a me e prende Belen. E' vero o no? E' vero o no? No, quando sei rientrato a casa, Maria, ti ha bussato. E' vero o no? Mamma mia. Tergi Cristallo? No, tergi. O no? Vediamo le chiavi e la prevede. Basta farli senti giovani perché... Fonami... E' incazzato con te? No, no. Ogni volta che mangia gli rompi i coglioni. Disse in Gai Pizza? C'ha ragione. Eh, Nonna Marie? Quasi mezza... Quì? Quasi mezza... Ma stai a me che cazzo mi frega, non lo mangia qualcosa. Ma no, non lo mangia qualcosa. Adesso? Eh, per favore. Prima no? Eh, metta qua il caldo la cambiata. Ma, non viene oltre una... Non lo mangia. E non lo mangia, non lo mangia. Sì, no. No, no. Ma lo stai? Sono in tassi di questo frugrone. Sì, sì, sì. Ah. Vai, 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 al palo, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Al palo, no, benveno piano piano. Ecco la carica, niente, non si va a dormire quindi Guardate, è air Come è Nicolè? Che c'è sta di qui? La discoteca Guarda un po' Guarda un po' Guarda che lavoro Guarda che lavoro Ma noi siamo stati qui ieri, salutate Ciao Ciao Siamo stati qui noi Guarda che fila ragazzi Mamma mia che fila Incredible Incredible Ma che c'era di qui? Va male Viva la figa col pelo nero Viva la figa col pelo nero Dai, ura, ura Viva la figa col pelo nero Mi devi spiegare una cosa Ma tutta questa energia All'età tua, dove la trovi? Eh, dove la trovo? C'è l'ho Che so, alle due della notte ancora sta in ballo Se è stato in discoteca A fare lo zozzone E ancora c'è sta vitalità Che voi siete più sporco Viva il bastone del collaio Incredible Guarda che mi chiudono il cancello Ma tocca su un pallo E alle due ancora sta in discoteca Ma davanti è bellino il peluche E su ci l'ho che è bellino il peluche Vale Dai su Incredibile Io No parole Sono super contento anche di condividere Queste cose con voi Perché sono uniche